ciao a tutti sono sempre vestita nello stesso modo che mi avete visto l'ultima volta scusatemi stanno arrivando i vostri messaggi ho deciso di fare un video un po diverso di quelli soliti anche perché qualcuno mi ha anche chiesto e allora ho ottenuto qualcosina dei prodotti finiti e intanto ve le faccio vedere ai prodotti che ho usato e cosa ne penso di quei prodotti prima cosa da dire ho finito la matita questa qua tra l'altro quando finisce fa così sempre cade giù tutto la matita è questa questa qua la matita che la uso da anni e una matita per le sopracciglia scusate perché la matita per le sopracciglia c'è anche il suo pennellino da questa parte qua e la matita della colistar perché io ho la pelle o carnagione abbastanza chiara ecco se volete ve lo dico quello è il numero della colistar numero 4 non so se riuscite a vedere questa matita qua mi piace tantissimo l'unica cosa che non riesco a trovare da tutte le parti questa matita qua perché non si trova ecco anche dove vendono tante volte quando vado a comprarla non c'è praticamente perché devo sempre ordinarla allora quando quando vedo che c'è anni prendo sempre anche due ne dovrei avere un'altra da qualche parte secondo me bene l'uno è andato se li ricompro certo che li ricompro perché è una cosa che uso sempre e lo ricompro sì un'altra cosa che ho finito questa qua stessa cosa posso dire di questo rossetto quando rossetto che ha uso da anni anche questo rossetto qua ma è un rossetto di della debora e matte questo rossetto qua se volete lo faccio vedere così il numero del rossetto è 0 6 e anche questo rossetto uso da anni ce l'ho già anche nuove ecco un'altra cosa che ho ottenuto da parte perché ho trovato la faccio vedere se farò un video farò vedere faccio vedere anche questa cosa qua questa maschera qua non mi dispiace questa maschera qua non chiedete cosa costa perché i prezzi sinceramente non mi ricordo la mattita forse 12 13 euro non lo so rossetto forse 10 euro 9 euro questa qua la maschera allora questa la maschera è in tessuto idratante emolliente e all'avocado è piaciuto tantissimo se la ricompro si se la vedo la ricompro bio core si chiama allora un'altra cosa che ho finito che avevo già da un bel un altro giorno quando ho fatto la vasca questa qua è l'essenza per il bagno alzandolo era molto buona cioè come approfumazione molto buona se la ricompro no non la ricompro perché è è molto buona però è costato non mi ricordo neanche il prezzo sinceramente non mi chiedete però anche perché just non si vende così bisogna partecipare partecipare non so tipo perché allora non vendono direttamente allora non lo ricompro perché è molto buona roba di just però non lo ricompro più allora un'altra cosa che ho finito che avevo già fatto anche vedere questo qua che mi ha durato anche tanto e bagno schiuma per lì è buonissimo ragazzi fa un odore buonissima salari con costra 4 euro secondo questo qua però buonissimo se sarà in sconto forse lo ricompro allora un'altra cosa che ho finito è questo qua sapone marsiglia miele allora questo qua è sapone sapone vegetale puro concentrato e vegan come la mia marca il maestro sapone vegetale praticamente allora io mi dico perché la uso adesso qualcuno mi dirà ma no cosa stai facendo allora vi dirò subito allora siccome io ho avuto tantissimi problemi con allergia ho provato tantissime tantissime cose che sono in commercio per struccarmi ecco diciamo così però l'unico modo per me ecco parlo per me non dico fate anche voi così parlo per me è un unico modo per cui io mi lavo la faccia io mi lavo la faccia con questo qua adesso l'ho lavato con questo qua ho incominciato a usare il prodotto di bionic che c'è anche bionic all'olio ho incominciato prodotto ho incominciato a usare da quel prodotto lì dopo ho comprato bionic senza olio però dopo senza olio e dopo ho visto questo qua costa tre volte meno allora ho detto lo provo che tra l'altro ne ho altri due boccetti tutto proverò e mi è piaciuto io mi lavo la faccia con questo qua un'altra cosa che l'ho finito questi profumatori per la casa ecco questo a violetta talco che adesso l'ho messo in sala non mi piace mi piace quella lavanda questo l'avevo comprato dei cinesi però costrà 10 euro questo qua è buona mi piace molto lavanda di questo qua allora un'altra cosa che ho finito intanto facciamo faccio vedere tutte le cose così per la casa dopo guardiamo anche dei terzi che ho finito allora cominciamo da questa maschera qua allora la maschera per i capelli questa qua da no praticamente qua c'è scritto con acido ironico biotecnologia impacco capelli trattamento ricostituente restaurative threat mask comunque questa maschera qua ha costato 10 euro e non mi è piaciuta per niente ecco non vale la pena comprare questo maschera come profumazione anche come profumazione non mi piace un'altra cosa che ho finito questa maschera qua questo al zafferano è praticamente a farm officina hanno trovato in profumeria il negozio detersive maschera capelli nutrienti ristrutturante questa sì questo a me non mi è dispiaciuto devo essere sincera che poi tra l'altro ho finito anche questo sempre della stessa della stessa marca questa era il carbone mi sono piaciute abbastanza tutti e due allora quella di zafferano forse color carbone come profumazione mi piace un po di più però sono abbastanza buone tutti e due sono anche i capelli attaccati qua e vabbè scusate però allora ho finito anche questo qua passiamo dei prodotti ah no scusate un altro bagno schiuma che ho finito è questo qua che non mi piace per niente se lo ricompro spero 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 di non sbagliarmi non ricomprarlo più perché non mi piace non mi piace né come profumazione né come sostanza di quel prodotto lì ecco un'altra cosa che ho finito il spruzzino questo qua sgrassatore universale l'avevo comprato secondo me all'euro spin l'ho preso con la lavanda questo non mi piace non mi piace l'avevo comprato anche un altro spruzzino secondo me c'è anche alla marsilia però non mi piacciono questi qua allora un altro prodotto finito e se mi chiedete se lo compro sgrassatore allora vi dico già spoiler qualcosina allora intanto finisco tutti i prodotti che ho quelli che ho in casa dopo ho intenzione di fare i prodotti a casa mi informo meglio adesso sto guardando anche su internet le ricette di varie di varie cose quando quando troverò una ricetta giusta quello che mi può piacere di più sicuramente condivido però intenzione di comprare meno i prodotti meno detersivi così al supermercato e produrli a casa ecco le stesse cose per quanto riguarda questo qua per il frigorifero anche questa cosa qua non mi piace anche per i cosi per il frigo non li compro più non mi piacciono piuttosto un pulisco fan aceto ecco allora un'altra cosa che ho trovato acqua distillata questa quadra del folce azzurra e sinceramente costa un euro cinquanta e non ricompro più perché intanto il mio vaporetto supermercato sta sta dando di numero perché l'ho messo questa cosa qua non mi è piaciuto per niente piuttosto prendo acqua distillata quella normale ecco poi a per stirare meglio questo qua secondo me questo mettete neanche voi se non mi sbaglio forse avevo comprato all'euro spin si all'euro spin sempre si lo spray si si non è male questo non è male questo di euro spin l'ho usato l'ho finito adesso come con le tende che ho stirata praticamente se lo ricompro ce l'ho già un altro di un'altra marca se lo ricompro se se non ce l'ho ecco lo ricompro un'altra cosa che ho finito age gentile che ce l'ha già giù c'è scritto candeggina per colorate ai profumazioni di candeggina però sinceramente ho lavato anche i capi non proprio bianchi bianchi infatti anche dovevo anche paura di metterli sono sincera io non sono tanto fiduciosa con i prodotti che c'è scritto quello che c'è scritto però le ho messi e avevo paura che mi macchiasse invece non ha macchiato ma erano tutti vestiti abbastanza chiari e colorazioni chiari allora sì non mi ha macchiato ho lavato tutto bene se lo ricompro di qua si ce l'ho già giù uno di queste qua secondo me sì però posso fare anche meno ecco ecco ho finito anche questo qua il detersivo per bucato di general ho pagato poco e sinceramente non è male in questo qua ogni tanto mi piace cambiare con le persone se non ricomprerò mai i detersivi non posso dirgli no perché avevo provato a fare il detersivo anche a casa anni fa però con varie ricette diverse no a niente ragazze no non lo faccio a caso il detersivo ho fatto a caso perché avevo provato anche a grattare la marsiglia l'avevo bruciato anche una grattugia perché dovevo fare pezzi alcuni saponi praticamente no fatto solo di casinia basta fatto un po di danni anche i prodotti tipo ecco mi mi piacerebbe usare i prodotti un po più comprare meno prodotti ecco mi piacerebbe usare i prodotti un po più fatti in casa ecco vuole dire con semplici cose che si sa che sia già ecco il mio prossimo anno sarà sicuramente comprare meno produrre un po di più in casa ecco va bene ragazzi io spero che ho già chiacchierato abbastanza 14 15 minuti sì spero che vi è piaciuto questo video qua e queste cose quali voglio buttare via perché ho detto faccio perché se no prossime prossime cose che comprerò giustamente ve li farò vedere anche prossime cose e niente ragazze spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima volta ciao ciao a tutti